Siamo su uno scosceso, adesso abbiamo messo il tessuto antivegetativo, la rete, ferro elettrosaldata, materassino drenante, dopodiché metteremo il sintetico. Siamo su uno scosceso, adesso abbiamo messo il sintetico. Ok abbiamo finito, questo è il vecchio tappeto che abbiamo fatto un anno fa e questo invece è quello nuovo di quest'anno. Risultato finale. Grazie. 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 Grazie.